Senza mascherina molesta i passanti, siamo davanti alla stazione ferroviaria di Bassano. Viene chiesto l'intervento di una volante del commissariato. Quando gli agenti arrivano, vengono aggrediti da un giovane, un 24enne residente in Val Brenta, che a fatica viene bloccato, caricato in macchina e condotto in commissariato, denunciato per resistenza e multato per violazione delle norme anti-Covid. Qui emerge che solo un paio di giorni prima era già stato denunciato dai carabinieri perché aveva infranto i vetri della porta d'accesso alla stazione e aveva tentato di scassinare la macchinetta erogatrice dei biglietti.